Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Rom, Missione nelle terre arziane, un gioco di Ryan Laucat, edizione italiana della DV Giochi e se vi ricordate Ryan Laucat è lo stesso che ha fatto giochi spettacolari d'avventura come ad esempio Above and Below e Near and Far Near and Far che è tra l'altro già trattato sul canale. E questo Rom, come tutti gli altri giochi ovviamente di Ryan Laucat, condividono la stessa ambientazione quindi le terre arziane che sono poi l'ambientazione dei due giochi che ho citato precedentemente. Ci vediamo a breve dopo la sigla. Rom è un gioco dai 10 ai 99 anni, dai 10 in su, da 2 a 4 giocatori di una durata media di una trentina di minuti. Ci sta assolutamente perché comunque la velocità del gioco, vedete anche una scatolina piccolina, e la velocità del gioco è veramente spedita, quindi il turno gira velocemente e si arriva anche velocemente alla fine della partita. È un gioco in cui sarete e vestirete i panni di avventurieri, come in tutti i giochi appunto di questa ambientazione di Ryan Laucat, però questa volta più che andare all'esplorazione, infatti è un gioco questo qui, questo, che non ha assolutamente la variante e la componente narrativa, come abbiamo visto in Near and Far, questa volta dovrete andare alla ricerca di personaggi sperduti, avventurieri sperduti, appunto nelle terre arziane, e la vostra missione sarà quella di trovarli, raggrupparli, personaggi che vagano dispersi in queste terre arziane, che potrete aggiungere al vostro gruppo e poi ovviamente c'è anche la possibilità di guadagnare delle monete, di acquistare artefatti che vi daranno potere e cose particolari. Comunque è un gioco molto veloce, tra l'altro è una delle novità portate in questo 2020 da DV Giochi. Vi faccio vedere un po' come funziona, ma prima unboxing, scatola piccolina, vedete una bella colorazione, classico disegno e lo stile insomma di Ryan Laucat e di tutti quanti i suoi giochi, infatti ricorda molto 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 Near and Far, e vedete l'editore è la DV Giochi e la scatola insomma. Non è piena zeppa di roba, comunque il gioco è veramente molto interessante, e nel suo anche perché no abbastanza ricco di contenuti. Apriamo. Regolamento che sono veramente, cioè, no pochissime pagine, ancora meno, tra l'altro metà pagina nella maggior parte dei casi presa da un'immagine, sembra un pochino di seguire come vedete le regole di posizionamento del Tetris, come ora vi farò vedere, e è molto semplice come regolamento, vedete già arrivati qua giù, praticamente siamo alla fine. Quindi un regolamento che si legge nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. monete, che poi sono le stesse praticamente di Near and Far, oggetti che potete utilizzare all'interno del gioco, come vi ho detto prima, una bella busta di bei cubettoni grossi colorati, guardate lì quanti ce ne ce ne è veramente un casino per fare i movimenti sulla mappa di gioco, e poi tutte quante le carte che alla fin fine di qua, intanto vedete il turno di gioco e come si organizza la partita, e di qua vedete le carte che poi sono le sei carte che dovete mettere accanto per formare la mappa di gioco dove andrete a muovervi. Vi do un po' un'idea di come funziona il gioco. Questo è il tavolo di gioco, che come vedete è particolarmente distretto, ciascun giocatore sceglie tre personaggi di un colore, vedete c'è la banderina in fondo, quindi in una partita a due, nel caso giocatore verde con tre personaggi, giocatore blu con tre personaggi. Poi prendete tutti i cubettini di un colore, e li date ai due colori, ai due partecipanti che ci sono, due o più. Ovviamente in questo caso verde al verde, blu al blu. Miscolate tutte le carte mappa, che vedete c'hanno il simbolo di una mappa, e le mettete a faccia in giù, ovvero con il lato mappa dove c'è il numerino girato verso l'alto, le mettete disponendole così, in due file da tre. Mettete tutte quante le monete, qua giù in una riserva comune, mettete tutte quante le carte artefatto qui vicino al tavolo, comunque di lato, perché il gioco ha due modalità. La modalità introduttiva dove le carte non si usano, quindi non ci sono gli artefatti, e la modalità standard dove invece potete utilizzare anche gli artefatti. Poi decidete chi sarà il primo giocatore, si andrà ovviamente in senso orario, e date una scheda riassuntiva per i vari turni di gioco, e le azioni che si possono fare a tutti quanti i giocatori. Il senso del gioco è quello, un po' come nel Tetris, di andare a piazzare i vostri cubetti colorati per come sono scritti, ovviamente si può fare una zona a turno, sulla carta dei vostri personaggi. Vedete alcune caselle sono tratteggiate, che ora poi vi vado a descrivere. Comunque, uno per volta dovete andarle a posizionare, e quando utilizzate un personaggio, quel personaggio va tappato, perché almeno risulterà come se appunto in quel turno è stato utilizzato. Mettiamo caso, il primo giocatore è questo, che usa questo personaggio, e vedete, deve mettere tre cubettini blu, nello stesso modo come sono segnati qui, quindi non li potete invertire e farli ruotare. Dovete sempre mettere la figura per come è disegnata qui, un po' come se fosse nel Tetris. Lui potrebbe, che ne so, dire ad esempio, ne mette uno qui, seguendo appunto l'esempio sulla sua carta, uno qui e uno qui. Se quest'azione volesse andarla a fare, mettiamo caso questa carta qui fosse piena da altri cubettini messi da un altro giocatore che li vanno a bloccare il movimento, lui questa carta non la potrebbe mettere qui, perché dovrebbe andare a fare così, e un altro dei cubettini andrebbe fuori. Quindi potete andare a posizionare i vostri cubetti solo se ricentrano tutti quanti nella carta, o al massimo se hanno qualcosa di tratteggiato. Questo tratteggiato vuol dire che può andare anche a sforare fuori dalla mappa, ad esempio. O, mettiamo caso, a questo il Tetris fosse stato tratteggiato, lui avrebbe tranquillamente potuto mettere una cosa del genere, senza alcun problema. Se, invece, volete andare a posizionare qualcosa di cubettini in una zona che è già in parte occupata da un altro giocatore, potete farlo tranquillamente. Ad esempio, lui, una figura del genere, non potrebbe metterla perché gli mancherebbe questa posizione qua, per andarla a mettere. Però, visto che c'è già il cubetto di un altro giocatore, che ovviamente un cubetto singolo sarà difficile, ma può capitare, come nel caso di queste carte, lui potrebbe mettere la prima in alto, la seconda occupata da un altro giocatore, e mettere la terza accanto. Quindi, comunque, se una delle pedine del vostro avversario vi interrompe il movimento, è consentito comunque sempre metterci qualcosa. Ovviamente, ogni volta che mettete i vostri cubettini su una moneta, sul disegno di una moneta, dovete andare a pescare, di conseguenza, la moneta dalla riserva. E questo viene tappato. Il giocatore successivo, che è il verde, va a posizionare una sua carta, prende questo e potrebbe piazzare, ad esempio, un cubettino qua su, perché, vedete, la mossa ne chiede due, però il secondo è tratteggiato, quindi mette il primo qui, il secondo andrebbe qua su, ma è tratteggiato, quindi vuol dire che anche se sfora fuori dalla mappa non c'è problema. Gira questo personaggio qua giù, per ricordarsi che l'ha usato, e si prende due monetine, quindi da qui, dalla riserva, ne prende due. Devono essere sempre visibili a tutti i giocatori, quindi questa è quella del giocatore blu, queste due sono quelle del giocatore verde. Caselle tratteggiate vogliono dire che non ci devi posizionare niente, quindi nel caso uno avesse questa carta qui e andasse ad utilizzarla, vorrebbe dire che nella prima casella mette qualcosa, nella seconda, visto che è tratteggiata, non ci deve mettere nulla, però gli permette anche di sforare, o in un'altra mappa, o gli permette di sforare in una mappa chiusa che finisce. Quindi questo movimento, con questa carta, lo potrebbe fare. Però, se spendete due monete, quindi mettiamo caso il giocatore verde, spenda due monete e le rimette a posto, perché devono riandare ovviamente nella riserva comune, spendendo due monete, è possibile mettere una seconda pedina, un secondo cubettino del proprio colore, anche nella zona tratteggiata, seguendo però ovviamente sempre l'esempio della carta che hai giocato. Quindi nel caso, se avessi giocato una carta del genere, vedete questa qui, mettiamo caso fosse sempre stappata, invece di mettere soltanto un cubettino, come segnato lì il secondo tratteggiato, non ci va nulla, avrebbe potuto mettere anche il secondo, spendendo due monete. Alla fine del turno, se ci sono cubettini in tutta una zona, la zona è presa e ovviamente viene rivelata. Quindi, anche ora, mettendovele sempre a caso, è comunque per farvi un'idea, se tutte quante le sei caselle di una zona sono occupate dai cubettini, quella zona viene rivelata e la creatura smarrita che vagava in quella zona viene rivelata. Quindi ovviamente le andiamo a togliere tutti, quando ovviamente il turno finisce, quando tutti i giocatori hanno giocato una propria azione con ciascuno dei propri personaggi e viene rivelato un personaggio, che ovviamente ha anche una storiella qui da leggere. Questo particolarmente sembra preso da Naruto. La carta viene assegnata al giocatore che aveva più cubetti su di essa, quindi il blu ne aveva posizionati quattro, il verde ne aveva posizionati due, quindi questa carta viene affidata al giocatore blu. Il giocatore blu, adesso, quando poi si andranno a stappare i personaggi usati, si prende il nuovo personaggio, lo metto qui, però fate conto che è nella sua parte di tavolo, quindi il giocatore blu che l'ha guadagnato se lo prende e durante avanti potrà utilizzare anche l'abilità di questo personaggio. Si va alla fase successiva, al turno dopo, e tutti quanti i personaggi dovranno essere stappati. E questa è la modalità facilitata, quella di base. Nella modalità standard, invece, vengono in nostro aiuto anche gli artefatti, che sono queste carte qui. Gli artefatti possono essere comprati, ovviamente pagando il loro costo che c'è segnato sopra, e sono come le carte personaggio. Potete avere quanti artefatti volete, se li pagate potete averli anche tutti, e una volta utilizzate, li girate dalla parte opposta, che vedete bello, c'è anche una descrizione, che al fine del gioco non serve a niente, però lo sapete, tutti quanti i giochi di Ryan Laucat sono molto basati, ed è importantissimo appunto la parte narrativa, e questo non è da meno, cosa che io sinceramente ho apprezzato molto. Quando andate ad utilizzare un oggetto, lo tappate, e vedete l'effetto che c'è scritto sotto. In questo caso qui, utilizzando questo oggetto con uno o qualsiasi dei nostri personaggi, quindi va usato con un personaggio, cioè uso questo e questo glielo uso insieme, come se quest'arma l'avesse lui, vedete mi dice che posso sostituire uno dei miei cubetti con uno dei cubetti di un avversario, quindi posso levare un cubetto di un colore di un avversario e metterci uno dei miei. Ragazzi, ovviamente qualcosina in più c'è, però ho spiegato in breve, vi assicuro il gioco, bene o male è tutto qui. In conclusione, l'avete visto molto, sempre dato in visione di un'infarinatura, come faccio io, quindi non li prendete assolutamente come tutorial, per darvi un'idea, insomma, se il gioco vi fa piacere o meno. Se le devo dare un voto a un gioco del genere, secondo me, un bel 7 su 10 se lo merita, assolutamente, perché è un gioco piccolino, immediato, bello, fresco, d'avventura, perché alla fin fine anche questo ce l'ha la sua componente d'avventura, alla fin fine la strategia che andiamo ad utilizzare è abbastanza semplice, non è troppo articolata, troppo complessa, con movimenti, logistiche, cose del genere, però comunque un certo spessore di profondità ce l'ha, perché avete visto, dovete sempre mettere i vostri avventurieri nel punto giusto e nel modo giusto per riuscire a prendere tutta quanta una zona o comunque la maggior parte di essa. Quindi un gioco, secondo me, veloce, è un gioco bellino ed è un gioco che tranquillamente potete portare ovunque, anche perché il 99,9% dei giochi della dv giochi sono così, dei board game appunto della dv giochi sono giochi per tutti, sono fatti in quest'ottica qui come un bang, come un samurai sword, come un near and far, sono giochi che si possono mettere tranquillamente a qualsiasi tavolo e non sono mai complicati oppure potrebbero scoraggiare qualcuno. Quindi ancora una volta è un gioco assolutamente che potete portare ovunque e praticamente anche questo più o meno è del formato del gioco, non vi dico attascabile, comunque lo potete portare tranquillamente in giro. Un 7 su 10 meritatissimo, io ringrazio ancora una volta la dv giochi per avermi offerto una copia per la recensione, grazie ragazzi, è un grandissimo onore collaborare con voi. Primo link in descrizione dove acquistarlo e poi tutti quanti i nostri social a seguire. Fatemi sapere magari con un commento cosa ne pensate. Ciao ragazzi, alla prossima!